Valtis! 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 Valtis tutti! Oh! 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 Stai salendo sul palco! Dice che hai di fare il preferito del nostro pubblico! Sì! 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 Ciao, Valtis! E un applauso per tutti i ragazzi! Valtis! 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 E in testo smettiam. Fermi lì, ok? Plecamente! Bye, Matiz! Ciao, Matiz! Ciao! Ciao! Ti stanno accendendo, ti stanno accendendo! Vai, Matiz! Adiz, su Porta Creator Matiz! Su Porta Creator Matiz! Felicissimo di essere qui, non mi sarei mai aspettato di giocare a Fortnite in un ring, ma ringrazio che in questa arena vengono veramente qualcosa di fantastico. Quando ho sentito che appunto avrei voluto fare delle partite qui, insieme a loro del tuo tavolo, bellissimo! Ma poi ho pensato che in Pro Cross Matiz devo fare qualcosa di un po' più particolare. Quindi ho pensato di fare insieme a noi oggi una challenge che voglio anche sul mio canale. La challenge si chiama Detto quanto sei la faccio su qua. E qualcuno di voi la conosce? Sì! E la cosa bellissima è che sarete proprio voi a tutto quello che oggi voglio fare io e anche le persone del pubblico perché ci vediamo tutti qua insieme oggi in questa stanza. Bellissimo! Oh, ha, tiz! Solo armi bianche delle tattate! Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Sì, ok, 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 ok. Sì! Sì! Allora, posso iniziare a selezionare...